L'ultima volta che vieni qua ai tempi pellegrini, quando la zona era frequentata a Barreca, Laura. Ma Paolo, dici come sta andando il Corriere della Calabria. Bene. Bene. Ringraziando Dio va bene. Ecco. Ringraziato anche i calabresi. Ma ascolta, ma ci sono in vista novità, rubriche nuove? No, No, noi abbiamo fatto adesso, abbiamo avviato anche lo spazio televisivo, non volevo dirlo, per non essere... No, abbiamo questa collaborazione con Infospazio, per fare un TG insieme. Per me che sono un vecchio animale della carta stampata è una cosa complicata. Una nuova sfida. Sì, ma ci sono tanti ragazzi intorno a noi che ci aiuteranno a far bene. Grazie. Grazie Paolo. Dottore De Felice, collo dai tempi del generale Pellegrini. Il che è quanto dire, buongiorno signorale. Buongiorno signorale.